Presenta, onori al comandante regionale Liguria della Guardia di Finanza. Protone, fianco! Protone, riposo! L'iniziativa odierna, di intitolazione di un largo alle fiammeggelle d'Italia qui ad Alassio, è partita dall'amministrazione comunale, a sottolineare l'impegno che quotidianamente la Guardia di Finanza svolge a servizio del Paese, come forza di polizia, economico-finanziaria. È importante evidenziare come tale cerimonia di intitolazione si interisca pienamente nel quadro delle finalità istituzionali del corpo, volte, tra l'altro, a cementare l'unione di tutti i vicari servizi in considero della Guardia di Finanza, mantenendo vivo, come il punto delle priori tradizioni del corpo, il sentimento pato, l'ottimito di corpo, l'ottimito militare, è il senso di...